All'ospedale di Policoro ci sono molti problemi, specie di personale e strumentazioni, che non si risolvono con una bella e nuova sede che risponde in parte ad un'esigenza di riduzione dei costi. E' quanto sostiene il consigliere regionale di PDL Forza Italia Paolo Castelluccio, che commenta le dichiarazioni a suo parere eccessivamente entusiastiche dei dirigenti dell'ASM sulla riorganizzazione di servizi del nosocomio. Per l'esponente di Forza Italia, le risorse messe a disposizione per completare il programma di innovazione tecnologica, con una spesa di poco superiore agli 84 milioni di euro, è solo un passo avanti verso il potenziamento di servizi e prestazioni dell'ospedale di Policoro, che necessitano di ben altri sostanziosi interventi. Nel ricordare che nel periodo estivo il nosocomio della cittadina Ionica è il presidio della salute per 100.000 persone, Castelluccio evidenzia che occorre accogliere le solicitazioni del personale, dei sindacati di categoria, dell'amministrazione comunale e dei consiglieri regionali in merito al futuro della struttura.